In un momento di crisi economica e soprattutto commerciale, staranno i sorrisi e la simpatia delle giornaliste del nord-est, i poliziotti della Questura di Padova, a rilanciare la moda padovana aiutando i bambini malati della Pediatria di Padova. È l'altra faccia della medaglia di Fashion by Night, la tradizionale sfilata dell'Ascoma di Padova, organizzata però in via eccezionale quest'anno in collaborazione con la sostampa, telechiara, la Pediatria di Padova e la Questura della Città del Santo. I negozi del centro di Padova faranno sfilare la moda autunno-inverno che poi proporranno i propri clienti grazie a dei modelli speciali, le giornaliste e i poliziotti che proporranno gioielli piuttosto che il casual, l'intimo e naturalmente la sposa. Un appuntamento che, a detta degli organizzatori, da oggi dovrà diventare un appuntamento fisso per la città e che potrebbe essere il volano di altre iniziative simili. Una bella iniziativa e sono felice che trovi ospitalità in uno dei nostri più bei centri recuperati che è appunto il centro culturale San Gaetano. Questa iniziativa per valorizzare il commercio come altre che magari potrebbero valorizzare l'artigianato locale e così via. Mettiamo insieme due cose importanti, la moda, la sfilata, il vivere quotidiano ma soprattutto a favore di un'iniziativa importante che è questo ambulatorio Codice Rosso. Potrà essere una serata, la prima di alcune serate importanti, faremo altre iniziative di questo tipo per il bene del sistema. Durante la serata, che verrà trasmessa sabato sera alle 21 sulla nostra rete, verranno raccolte offerte destinate alla realizzazione del terzo ambulatorio Codice Rosso del pronto soccorso pediatrico di Padova destinato ai bambini che arrivano in ospedale in potenziale pericolo di vita. Il conto corrente rimarrà aperto fino a dicembre proprio per mantenere vivo il contatto tra i padovani, la pediatria, la stampa e la moda e perché proprio sotto le feste venga portato a compimento questo bel regalo a favore dei piccoli malati.